Il Friuli Venezia Giulia è una regione piccola, ma piena di febbovie secondarie e scorciatoie. L'ultima scorciatoia che abbiamo visto è la San Vito al Tagliamento Motta di Livenza, che andava appunto a tagliare i tempi di percorrenza per andare verso Casarsa, Udine, Tarvisio e tutte le altre destinazioni. Prima di iniziare ad analizzare la storia di questa linea è importante fare due doverose premesse. La prima riguarda il percorso. Quella che comunemente viene chiamata Sacile-Gemona in realtà è l'unione di due linee, appunto della Sacile-Pinzano e della Pinzano-Gemona, l'ultimo tratto della Casarsa-Gemona che è rimasto attivo. La seconda premessa riguarda il contenuto di questo video. Quello che andremo a vedere è ovviamente un enorme riassunto del lavoro di Romano Vecchiette, delle sue ricerche, dei suoi libri e di tutte le sue altre pubblicazioni. Partiamo con l'inizio, con la motivazione che ha fatto nascere questa linea. Siamo nel 1866 e di lì a poco sarebbe stata aperta la ferrovia pontebana che avrebbe collegato con un tracciato abbastanza complesso Udine con l'Austria. I traffici che avrebbe generato potevano in qualche modo andare a penalizzare Venezia. Infatti, essendo la via più breve, i treni sarebbero andati su Trieste e quindi sul suo porto e quindi avrebbe favorito questa città. Venezia non poteva lasciarsi sfuggire a questa opportunità. Si può quindi dire con abbastanza certezza che la linea non è mai stata voluta fin dall'inizio da Spilimbergo, da San Daniele, da Pinzano e da tutte le altre località che in qualche modo hanno avuto un ruolo nella storia di questa linea. Il primo percorso ipotizzato non passava per Spilimbergo, Pinzano e tutte le altre località che hanno visto questa ferrovia. Si ipotizzava di passare per la riva sinistra del tagliamento, ovvero oltre Casarsa, in direzione Codroipo, quindi per poi raggiungere Dignano, San Daniele, Maiano e di conseguenza Gemona. Un percorso probabilmente più dritto, più semplice, anche perché serviva un ponte in meno, dato che quello che c'è tra Casarsa e Codroipo vi era già. Il tracciato sotto Casarsa anche quello è stato oggetto di dibattito, però in maniera estremamente minore. Infatti per brevità del video andremo a definire Casarsa come punto fermo di transito di questa linea. Da qui in poi iniziano le prime battaglie campanellistiche. Infatti a Spilimbergo sentita l'ipotesi di una ferrovia tutta posta al di là nel tagliamento, quindi appunto sulla riva sinistra, iniziano ad esserci delle voci che tentano di portare la ferrovia nella propria città. Il primo di essi è Filippo Ciriani, proveniente da Manazzons. Le motivazioni portate non riguardavano tanto il motivo economico, bensì quello di una brevità di tracciato, di minori costi e soprattutto di una motivazione strategica. La motivazione strategica, come vedremo, sarà il punto cardine per poter convincere Roma a finanziare il progetto. Il percorso proposto da Filippo Ciriani vedeva l'attraversamento del tagliamento alla stretta di Pinzano. Il 30 aprile 1873 la Società Veneta viene autorizzata a riprendere gli studi della linea Casarsa-Gemona. Questo è il primo atto ufficiale che determina l'inizio dei lavori della ferrovia. A questo progetto della Società Veneta aderivano i sindaci del distretto di Spilimbergo. Le risorse complessive aumentavano a 4.000 lire, di cui 900 in carico a Spilimbergo. Curiosamente tra i vari comuni che aderivano vi fu anche Tramonti di Sopra che con 125 lire contribuì a questo progetto. Con il consenso dei vari sindaci pareva che San Daniele fosse definitivamente fuori dai giochi. Fin da subito Udine tentò di sabotare la costruzione di questa linea. Infatti quando Venezia chiese a Udine cosa ne pensasse di questa linea dichiarò che era interesse nazionale avvicinare Venezia ai mercati dell'Austria. Solamente due anni dopo il giornale di Udine, sempre contrario alla realizzazione di questa linea, propose di passare i treni tramite la linea Cerviniano-Udine di lì a poco costruita. Con queste dichiarazioni e con un parziale appoggio della provincia di Udine si pensò che addirittura la linea non passasse più per Spilimbergo. San Daniele tentò un altro approccio. Si rese conto che avere una linea interamente sulla sponda sinistra era un po' inutile considerata la presenza della ponte bana e allora propose di far passare la linea nel suo paese dopo aver transitato per Spilimbergo. Di conseguenza il ponte sul tagliamento sarebbe stato proprio tra Spilimbergo e San Daniele. Questa soluzione poteva conciliare gli interessi di Spilimbergo e quelli di San Daniele, certamente in un'area più popolosa, più ricca. Il problema è che la linea non era ancora stata finanziata e bisognava certamente mettere pressione in Parlamento per ottenere i soldi necessari. L'unica leva era il motivo strategico, quello appunto per la difesa del territorio in caso di invasione austriaca. Il problema è che in Parlamento non vi era ancora un percorso preciso, infatti fino a Spilimbergo più o meno qualcosa c'era, forte del progetto della società veneta. Oltre Spilimbergo non era ancora deciso dove passare il tagliamento. Prima di proseguire andiamo a riassumere i tre progetti principali. Il primo riguardava il transito interamente sulla riva sinistra del tagliamento, quindi con lo sfruttamento del ponte tra Casarsa e Codroipo. Questa ipotesi non fu mai approfondita veramente. La seconda ipotesi prevedeva il transito su Casarsa, Spilimbergo, Pinzano e infine Gemona. Questo prevedeva il ponte sulla stretta di Pinzano, sia per il traffico stradale e sia per il traffico ferroviario. La terza ipotesi invece prevedeva il transito a Casarsa, Spilimbergo, San Daniele e quindi Gemona, con il ponte tra queste due località. Quest'ultima ipotesi andava ad escludere gli interessi di Pinzano, Pitodasio, Ragonia, Forgavia e tutta quell'area lì. Passiamo oltre e andiamo alla costruzione della Casarsa-Spilimbergo. Come detto era la tratta più sicura, ma c'è anche da dire che la tratta costruita effettivamente era diversa dal progetto finanziato da Spilimbergo e da tutti gli altri comuni. Il progetto usato fu quello della Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali, che oltre a un cambio di percorso comunque lieve, andò a togliere la stazione di Cosa in favore di San Martino al Tagliamento e San Giorgio della Rikinvelda. Nonostante l'inizio dei lavori, l'onorevole Cavalletto nel 1888 andò in Parlamento a chiedere la separazione delle due tratte, ovvero Casarsa-Spilimbergo e Spilimbergo-Gemona. Per quest'ultima tratta non vi era ancora un progetto definitivo e questo era inevitabile che avrebbe portato dei ritardi. Il 12 gennaio 1893 la linea venne finalmente inaugurata. Dopo un'attesa di ben 26 anni partì da Casarsa un treno inaugurale, tutto imbandierato, con numerose persone alle stazioni in festa. Il treno terminò la sua corsa ovviamente a Spilimbergo dove venne accolto dalla banda di Valvasone. Si potrebbe pensare che l'inaugurazione della linea poteva dare un impulso allo sviluppo della linea oltre Spilimbergo. Spilimbergo in realtà era interessata principalmente ai traffici per Casarsa. San Daniele invece da 4 anni ormai aveva il tram per Udine che, nonostante la sua lentezza, garantiva dei collegamenti verso una città ben più importante rispetto a Gemona o a Casarsa. Questo comportò un silenzio di 10 anni, ovvero per tutto questo tempo nessuno propose niente e i lavori rimasero fermi. Nel 1904 la Commissione Reale per lo Studio delle Ferrovie Complementari propose un tracciato. Per la prima volta il tagliamento venne attraversato a Cornino, non più a Pinzano o a Spilimbergo. Era il tracciato che favoriva maggiormente la fascia pedemontana, che però destava comunque qualche perplessità. Infatti la linea era vulnerabile dal Monte di Ragonia, ben vicino a Pinzano. Era però il tracciato più semplice da costruire e probabilmente anche il più economico. Udine ormai aveva un'opinione più o meno neutra, ovvero affermava che l'utilità strategica era da perseguire e quindi gli andava bene. Spilimbergo, come detto poc'anzi, era molto interessata dal progetto proprio perché poteva collegarsi con i comuni della Pedemontana. La prima notizia ufficiale dei lavori di questa linea ci fu il 9 gennaio 1909. Il tratto da Spilimbergo a Valeriano era molto semplice da realizzare, mentre oltre Valeriano era necessario superare una trentina di metri di dislivello e anche un buon numero di corsi d'acqua. L'inaugurazione del 16 gennaio 1912 fu piuttosto curiosa. Infatti il primo treno non fu un treno speciale, bensì era una corsa di linea normalissima che caricava regolarmente i viaggiatori. Certo vi fu qualche festeggiamento a Spilimbergo, ma poi il treno ha sostato qualche minuto perché poi doveva arrivare a Casarsa in orario per la coincidenza verso Venezia. I lavori oltre Pinzano invece furono un po' più lenti e più tormentati, in particolare da segnalare che la galleria subito dopo la stazione di Pinzano, lunga 470 metri, richiese 3 anni per essere completata. Se avessero usato la stessa identica velocità per fare il traforo del Sempione, gli operai avrebbero impiegato 49 anni. Il tratto inoltre era anche più difficile da completare per via dell'attraversamento dell'Arzino e anche soprattutto del tagliamento. Curioso notare però che il ponte sul tagliamento in realtà sono due ponti sul tagliamento. Infatti al centro dei due ponti vi è l'isolotto Clapat che va quindi a dividere il tratto in due sezioni separate. L'inaugurazione della linea fino a Gemona avvenne il primo novembre 1914. L'inaugurazione aveva previsto numerose feste, soprattutto a Gemona, che però furono interrotte da una notizia. Il treno partito da Gemona e anche quello partito da Spilimbergo tornarono indietro ai rispettivi capolinea. Questo perché proprio in quel giorno vi fu una violenta alluvione che andò a danneggiare il tratto da Cornino fino a Forgari. Furono molte le critiche, come si poteva immaginare di costruire una linea senza tener conto del fatto che quella lì è un'area facilmente alluvionabile. Solamente un mese dopo venne fatta una seconda inaugurazione, questa volta senza festeggiamenti. Purtroppo però il treno arrivò a casarsi in ritardo, facendo perdere la coincidenza per Venezia a tutti i viaggiatori. Dopo tutti questi anni, ovvero dal 1866 al 1914, di polemiche, di progetti, di scontri, di lavori, la linea non venne usata per il suo scopo originale, ovvero il motivo commerciale. Venne completata esclusivamente per l'interesse dello Stato per i vari motivi strategici. La linea nacque sfortunata a causa di un orario troppo ridotto. Col tratto fino a Spilimbergo, quindi durante la prima inaugurazione, vi furono solamente due coppie di treni al giorno che percorrevano la tratta da Casarsa a Spilimbergo in 45 minuti. Curioso notare anche che vi era un solo treno che faceva scuola tra le due località. Non fu tanto migliore la situazione quando la linea venne aperta a Gemona. Anzi, bisogna attendere gli austriaci per avere un orario più completo. Infatti, nel 1917 vi furono numerosi treni che raggiungevano Pontafell e Villach in Austria. Inoltre, la linea venne usata anche per necessità militari, per raggiungere il Piave. Nel giugno 1918, gli austriaci costruirono lo scalo di Casarsa Nord, con ben 11 binari per il ricovero dei treni. C'è però da dire che sempre in quell'anno lo scalo venne demolito. Facciamo un grande salto in avanti e andiamo nell'orario più completo del 1935. Da Spilimbergo vi erano 5 treni per Casarsa, 4 per Gemona e 1 per Pinzano. In quel periodo vi furono anche gli accelerati leggeri, ovvero treni a vapore con 2 o 3 vagoni al massimo, che percorrevano l'intero tratto in solamente 1 ora e 10. Nell'estate del 1948 arrivano le prime automotrici termiche, le Fiat ALN56, che però coprivano l'intero tratto in 1 ora e un quarto, 5 minuti più lente dei treni precedenti. L'ultimo orario del 1967 prevedeva 5 treni per Gemona. Visto lo scarso traffico di passeggeri, la linea venne chiusa nel 1967. Curioso notare però che non venne chiusa il 24 settembre con il previsto cambio di orario, pensi il 1 agosto sempre di quell'anno e, una settimana prima della chiusura ufficiale, quella del 1 agosto, vi fu la coesistenza della ferrovia con l'autoservizio sostitutivo. Questa stranezza venne giustificata come un modo per abituare i passeggeri al nuovo servizio. La linea venne chiusa inaspettatamente a dire la verità. Quella che doveva chiudere era la Sacile Pinzano, a causa, nel scarso numero di viaggiatori e del fatto che il ponte sul torrente dell'Artugna ad Aviano richiedeva troppo tempo per essere sistemato. Ma allora perché la Sacile Pinzano rimase aperta mentre la Casarsa Pinzano no? Maniago, alla Camera di Commercio, si battè in tutti i modi per tenere la linea attiva. Spillingbergo, invece, non fece niente. La linea in realtà continuò ad esistere come raccordo per il traffico merci, però con una velocità massima di 30 km all'ora e marcia vista nei continui passaggi a livello. L'ultimo treno passò nel 1987, poi la vegetazione invase tutto. L'unica stazione che venne abbattuta fu quella di Valeriano, a causa della sua pericolosità. Per il resto i fabbricati dei viaggiatori sono più o meno ben conservati, anche se ci sarebbe tanto da fare per portarli allo splendore di un tempo. La linea pareva destinata a un triste destino. Invece, nel 2009, un'attesi di Laura di Marica Sarcinelli propose di recuperare la linea come pista ciclabile, però una pista ciclabile in parallelo con la ferrovia. Purtroppo del progetto non si fece niente. L'idea però di una pista ciclabile rimase nel tempo. E infatti, nel 2020, la regione Fiuli Venezia Giulia acquistò il sedime ferroviario per costruire lì la pista ciclabile. I lavori vennero però quasi subito bloccati nel giugno 2021, a causa della protesta di privati cittadini che segnalavano alla soppintendenza l'imminente avvio dei lavori. Il loro obiettivo era quello di lasciare la ferrovia così com'era, perché la consideravano un bene da preservare. L'ultima notizia è del 10 dicembre 2022, dove un comitato propone la riapertura totale della linea, più che altro per una questione di traffico commerci. Siamo arrivati quasi alla fine di questo viaggio, un viaggio fatto di campanilismi e pur egoismo personale. Se tutte le varie città avessero collaborato, probabilmente oggi la Casarsa Pinzano Gemona o Casarsa San Daniele Gemona potrebbe ancora essere qui con noi. Invece si è preferito litigare, andando a perdere anni in cui si poteva veramente dimostrare che quella linea potrebbe essere utile. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.